28 pratiche rischiano di fermarsi dopo la sospensione dell'attività dello sportello decentrato dell'UTR 7 dei comuni fuori cratere. Un colpo duro per Sulmona che non rientra in quel cratere tant'è che l'assessore comunale alla ricostruzione Antonio Angelone non è citato a lanciare l'allarme. Le pratiche in istruttoria nell'ufficio di Coriano per Sulmona sono 11 alle quali vanno aggiunte altre 17 da riportare a comune per un totale di 28. Troppe per una città che è ancora indietro sul fronte della ricostruzione. Sarà mio impegno urgente di riprendere tutte le pratiche ferme negli uffici UTR di Coriano e far approvare la convenzione per i tecnici di Abruzzo Engineering. Ha sfigato Angelone che ricorda di essersi recato in prefettura di aver condotto tutte le battaglie poste in essere nell'ultimo periodo per non arrivare a questa situazione. Lo stop che arriva da Coriano è grave per questo ci stiamo già muovendo per sollecitare chi di dovere in calza Angelone che ha avuto rassicurazioni anche sul rinnovo della convenzione con Abruzzo Engineering. L'ufficio Sisma infatti conta un architetto e due ingegneri ma il rinnovo al momento è solo una promessa. Da Palazzo San Francesco accelerano sulle altre pratiche per scongiurare la paralisi.